Buongiorno a tutti, sono Giovanni Ceccherelli, sono il responsabile del servizio trasfusionale del Policlinico di Modena. Alcuni di voi donatori mi conoscono perché ci siamo visti all'assemblea dell'Avis, provinciali o comunali, ci siamo incontrati in qualche sagra e io sono a chiedervi un ulteriore prova dalla vostra disponibilità e la vostra gentilezza. In questo periodo estivo, quando andate giustamente in vacanza, non dimenticatevi di donare, non dimenticatevi di donare prima oppure dopo aver fatto le giustamente desiderate ferie. Questo perché i pazienti purtroppo sono gli stessi sia in inverno che l'estate. Se il donatore d'estate non ci supporta con la propria generosità, facendo in modo di riuscire ad avere anche in questo periodo la quantità di sangue sufficiente, potremmo avere dei problemi. Il problema non si riferisce tanto alla provincia di Modena quanto alle altre province della regione meno fortunate di noi. In questo caso Modena è in grado di supportare altre province regionali con del sangue che possiamo permetterci di mandarle a altre parti della regione in modo da aiutare province meno fortunate della nostra in termini di donatori. Io vi chiedo questo sacrificio in più, prima o dopo le ferie, in modo da riuscire a mantenere questa autosufficienza di sangue che abbiamo in regione. E vi ringrazio per la vostra disponibilità. E vi ringrazio per la vostra disponibilità.